Se è girato a girù, esulta tutta la curva a sud, guarda che viene giù, se è girato a girù, giuro io non ti sento più, se è girato a girù Sì, amo gli rossoneri tifosi della squadra capolista, bentornati sul canale Comando iscrivetevi al canale, lasciate il like, è tutto completamente gratuito Faccio il video solo questa mattina perché ieri durante Milan-Lazio e Salernitana-Inter stavo lavorando Quindi non ho potuto pubblicare video, poi ora che sono arrivato a casa era tardissimo, non ne valeva neanche la pena Ho ascoltato le partite alla radio, attentamente, ho rivisto, mi sono guardato la replica delle due partite Quest'altra giornata di campionato cosa ci dice? Che siamo alle solite, le milanesi regnano Milano regna su tutte mentre le altre guardano, ci ritroviamo lì in testa della classifica a 18 punti Botta e risposta, botta e risposta, gioca una e poi gioca l'altra, vince una e vince l'altra Non vogliono mollare e probabilmente sarà una battaglia fino all'ultima di campionato Se andiamo avanti così poi non si sa mai, il campionato è lungo, però per adesso sembra questo Il Napoli, il Napoli in ripresa, oltre al risultato anche ieri, secondo me ha cominciato a esprimere Un ottimo calcio come quello dell'anno scorso, questa sera aspettiamo la Juventus, speriamo, speriamo Di spernacchiare la Juventus e prenderli per il culo Si è notata una grandissima cosa ieri, nelle due partite, Milano-Lazio-Solennitana-Inter Queste due squadre giocano un buon calcio in un modo differente Perché l'Inter gioca più calcio di partenza, il Milan ha tutt'altro gioco, ha tutt'altro schema Però quando, quando in queste due squadre si accennono due giocatori è tutta un'altra storia Il Milan ha Leao, che secondo me è il giocatore più forte del Milan in questo momento E quando si accende Leao, magari il Milan riesce anche a giocare un'ottima partita Esprime un buon calcio, però magari non riesce a concludere Quando poi si accende Leao, e ieri si è visto, ha sfornato due cioccolatini al miele Uno prima per Pulisic e il secondo per Rocafor e arriva il gol Stessa cosa vale per l'Inter, perché l'Inter comunque gioca di ripartenze Tutto quello che volete, non ha un gioco che a me piace tantissimo l'Inter Però ha Lautaro Martinez, secondo me è il giocatore più forte dell'Inter Ed è uno dei giocatori più forti in questo momento in Italia Forse anche in Europa come attaccante L'Inter comunque non aveva giocato malissimo ieri Però il risultato non arrivava Anzi a volte a tratti è andata anche in difficoltà Entra Lautaro Martinez e in pochi minuti ne fa quattro Quindi quello, ragazzi, lì non si può dire niente Lì sei un bomber Un giocatore che riesce a prendere in mano la partita Sei un leader E riesce a sbloccare una partita difficilissima Stessa cosa il Milan Il Milan comunque nel primo tempo non aveva giocato benissimo Una partita un po' bloccata Un po' equilibrata Secondo tempo non c'è stata storia Il Milan ha dominato, però non si riusciva a sbloccare l'esultato Fin quando poi Leao Ha quegli strappi clamorosi O fa gol o te lo fa fare E queste due cose qua, secondo me Fanno la differenza Fanno la differenza in due squadre che secondo me possono lottare fino alla fine E si è visto ieri Si è notata tantissimo questa cosa Che anche ieri sera l'Inter Tu guardi la partita e dici Tanto la pareggiano Oggi non entra, oggi non entra Poi entra Lautaro Martinez e ne fa quattro Non ci rimane che guardare la Juve Che secondo me è una squadraccia Vi voglio bene a tutti Però ragazzi attenzione al Napoli Attenzione al Napoli perché il Napoli sta tornando bene Vi voglio bene a tutti E sempre Forza Diavolo Oggi non posso sfottere Non posso fare chissà che cosa Perché le partite non è che le ho viste in diretta Ho dovuto guardare la replica L'ho sentita la radio Non c'è gusto così Non c'è gusto Non c'è gusto